Salve, sono Patrizio Roversi, buon 25 aprile a tutti. Io sono molto legato al 25 aprile per motivi genetici, perché questo è il certificato da patriota, cioè da partigiano di mio babbo Claudio Roversi. Questo invece è un opuscolo dove si racconta la resistenza a Pegognaga e tra i componenti del Comitato di Liberazione Comunale c'è Adolfo Semeghini, che era mio nonno, suocero di mio padre. Mio babbo mi raccontava, era molto legato all'Ampi, anzi un saluto all'Ampi di Mantova con Luigi Benevelli. Adesso toccherebbe a noi stare allerta per vigilare sullo stato della libertà e della democrazia. La domanda quindi è come sta attualmente la democrazia? Credo che stia malissimo, cioè stava già male prima, nel senso che è un bel po' che non contiamo niente. Perché? Perché il mondo va in un certo modo, perché c'è la globalizzazione, perché decide tutto la grande finanza. Sì, certo, noi eleggiamo i nostri rappresentanti politici che fanno quel che possono, ma hanno ben poco potere in questo contesto. Qualcuno parla di globalizzazione provocata dalla globalizzazione. Magari è anche vero, però a mio avviso la conclusione è del tutto opposta a quella dei sovranisti. Abbiamo bisogno sì di una patria democratica, ma sempre più grande, non sempre più piccola. Quindi se riuscissimo a fare davvero gli Stati Uniti d'Europa con un sindacato europeo, un Parlamento europeo, guarda, ci metto dentro anche un esercito europeo, tanto per non farci mancare niente, forse potremmo democraticamente contare di più. Poi è arrivato anche il virus, per cui quest'anno non si festeggia in piazza il 25 aprile. E vabbè, d'accordo, stiamo a casa, però stiamo anche in campana, perché questa storia del virus forse ci porta a delle pessime abitudini che non vorrei che poi rimanessero nel nostro costume o qualcuno ce le volesse imporre. Per esempio, non lo so, non ci possiamo più stringere la mano, vedere, fare un'assemblea, fare una manifestazione, stare in piazza, stare in un cinema, stare in un teatro. C'è il telelavoro, che va bene, però è meglio non prenderci troppo l'abitudine per tutta una serie di implicazioni. Poi i telefonini, cioè sì, sì, c'è il modello cinese o il modello coreano. Sì, diventano praticamente un modo per controllarci. Insomma, va bene, ci siamo capiti, benissimo. Adesso c'è il virus e bisognerà stare in casa. Però fondamentalmente 25 aprile vuol dire anche stare in campana. Buon 25 aprile a tutti.